Al centro dell'inchiesta avviata dalla procura di Enna una festa di compleanno che si è svolta ridosso delle festività natalizie in un locale di Nicosia alla quale ha preso parte un cospicuo numero di invitati in prevalenza giovani, tutti provenienti dal paese del Messinese. L'obiettivo degli inquirenti è quello di accertare se il boom di contagi registrato a Capizzi poi divenuto zona rossa e nei comuni limitrofi sia stato effettivamente causato da comportamenti illeciti che hanno determinato un esponenziale di improvvisa crescita dei contagi tra gli abitanti della zona. Allo Stato il reato ipotizzato è quello di epidemia colposa. Le perquisizioni domiciliari così come tutti gli accertamenti in corso sono avvenute con il supporto di personale specializzato dell'ASPE di Enna che al fine di garantire le condizioni di sicurezza non solo ha assistito i militari ma ha anche curato l'iter di sanificazione di tutto il materiale sottoposto a sequestro tra cui diversi smartphone e apparati informatici in modo da consentirne il successivo esame in piena sicurezza. La guardia di finanza di Caltagirone ha invece sanzionato per violazione delle norme anti-covid cinque anziani che giocavano a carte in strada. Stavano disputando una partita a briscola seduti sugli scalini della Fontana Scelba di Piazza della Repubblica di fronte alla stazione ferroviaria di Caltagirone.